Dobbiamo ricordarci che la masticazione è il primo atto della funzione digestiva, quindi una masticazione che non viene eseguita correttamente, quindi che non è tanto da relazionare all'operato dell'odonto tecnico, ma a quelle che sono le informazioni che noi diamo, è chiaro che può inficiare tutto il processo digestivo, perché se non mastichi bene all'inizio, difficilmente potrai digerire meglio. Noi sappiamo che molte bocche sono consumate o perché vi è un'usura precoce o perché i pazienti hanno l'attitudine a digrignare i denti, quello che ne è chiamato volgarmente il bruxismo, e quindi consumando i denti praticamente diminuisce anche la capacità e l'efficienza masticatoria.